Questa rappresentazione l'ho vista tante volte, ma ogni volta le emozioni sono le stesse di sempre perché il lavoro che c'è dietro e la passione con cui questi ragazzi sono guidati anche dai docenti è qualcosa che a me tocca, quindi veramente colgo l'occasione per ringraziare l'intera comunità scolastica i ragazzi, i genitori che sono stati disponibilissimi ad accogliere la nostra proposta di portare i figli a scuola anche oltre la fine dell'anno scolastico, i docenti, i collaboratori scolastici, tutto perché il successo di queste rappresentazioni e di queste manifestazioni c'è soltanto quando tutta la comunità si mobilita perché le cose vadano nel giusto fine, nella giusta direzione.